Maurizio Vaino, classe 99, laterale, confermato in questa sciaminata. Sì, sono molto contento di questa riconferma. Mi è bastata una chiamata da mister Di Guia e da Domenico Scarnata e subito abbiamo trovato l'accordo. Sono contentissimo e spero di poter aiutare la squadra. La stagione scorsa è iniziato nell'anno 2019, poi si è passato in prima squadra e alla fine hai fatto un ottimo finale di stagione dove hai trovato anche la marcatura molto spesso. Sì, diciamo che venivo da un anno dove non avevo giocato tanto, quindi ho dovuto prendere un po' di minutaggio con l'Under-19, poi piano piano ho avuto i miei minuti in Serie B e poi per fortuna, un po' di fortuna, siamo riusciti a fare qualche gol, ma alla fine l'importante era comunque giocare. Per te poi la sciaminata è come se fosse una seconda pelle? Sì, mi sono trovato in un ambiente bellissimo dove veramente ti fanno sentire subito a casa tua. Dopo la buona, possiamo dire, stagione scorsa, quest'anno non vi potete nascondere l'obiettivo, è minimo entrare nella zona playoff e chissà, forse vorrebbe vincere. Ma guarda, io penso che comunque per come stiano allestendo la squadra, penso che la vittoria del campionato non è un obbligo, ma quasi. Per quanto riguarda i playoff, comunque penso massimo nelle prime due dobbiamo arrivare per poter salire in Serie A. A livello personale invece vuoi che il mister Di Cuglia ti dia più minuti possibili sul campo? Ma guarda, a livello personale spero di poter giocare il minutaggio che ho avuto anche l'anno scorso, diciamo. Nel senso che l'importante è riuscire a dare una mano alla squadra, poi alla fine il minutaggio dipende da questo. Se riesco a dare una mano alla squadra, sicuramente il mister Di Cuglia mi farà giocare tanto tempo. Grazie. Grazie. Grazie.